25 atleti si inseguono vicinissimi nella discesa di Valfortore. Non piove più, il sole illumina e colora suggestivamente in un trionfo di luce la valle meravigliosa. Nel maggio del 1933 il cronista sportivo Bruno Roghi sceglieva queste parole per descrivere il passaggio del Giro d'Italia su strade all'epoca non asfaltate in uno dei luoghi più suggestivi del Sannio. Era la terza volta che accadeva. Ci passavano grandi campioni come Girardengo, come le Arco Guerra, come Alfredo Binta ma anche grandi giornalisti. Ben quattro direttori della gazzetta dello sport uno dopo l'altro nelle vie di Foiano per seguire i grandi campioni. La storia è raccontata in un libro curato tra gli altri dallo storico Roberto Costanzo, all'epoca un bambino che a distanza di 91 anni farà un tuffo nel passato perché il prossimo 15 maggio l'undicesima tappa della Corsa Rosa partirà proprio da Foiano di Valfortore, poco più di 1300 abitanti. E' la magia del ciclismo capace di far conoscere al mondo le aree interne. Per l'accoglienza della carovana dal punto di vista logistico si mobiliterà l'intera provincia di Benevento. Fino ad allora un'agenda fitta di appuntamenti a Foiano dal trekking sulle vie del Giro alla Notte Rosa.